Buongiorno, 28 maggio venerdì, ultimo appuntamento di questo ciclo di conversazioni inizialmente il primo marzo con Adriano Panatta, il campione, l'amico, il fratello, 60 ospiti, felicissimo di chiudere questo ciclo con la persona che sto per presentarvi, che conoscevo già prima di… non ci siamo mai parlati prima, quindi è un ospite a me ignoto, se non che conosco le sue prese di posizione pubbliche, ha scritto sui principali giornali italiani, adesso è editorialista di Repubblica e dell'Espresso, è un costituzionalista, conoscevo le sue prese di posizione nell'arco del tempo, ma l'ho apprezzato ancora di più nel 2015, quando ha scritto un libro che iniziava così. Edoardo De Falco era un panettiere di Casal Nuovo, paesone di 50 mila abitanti a due passi da Napoli, la mattina del 19 febbraio 2014 un paio di ispettori del lavoro entrano nel suo locale, dietro il bancone c'è la moglie, lei non ha un contratto di assunzione, dà una mano al marito anche perché da un po' di tempo quel forno arranca per arrivare a fine mese, loro però si dimostrano inflessibili gli ispettori, nonostante le preghiere e i pianti del titolare, sicché gli appioppano una sanzione da 2000 Euro, intimandogli di pagarla in giornata, altrimenti dovranno mettere i sigilli e altri 10 mila Euro da versare a stretto giro. Il giorno dopo Edoardo De Falco si suicida collegando un tubo fra lo scarico e l'abitacolo della propria utilitaria, aveva 43 anni e ha lasciato tre bambini, primo caso. Continua questo incipit, Nadir Gismondi di anni invece ne aveva 22, un ragazzone grande grosso, ottimo studente, ex volontario negli Alpini, elettricista nei ritagli di tempo, il suo sogno era diventare vigile del fuoco come il suo papà, viveva a Imperia, all'alba del 28 giugno 2009 sta rientrando a casa dopo una notte trascorsa con gli amici, lo fermano a pattuglia dei carabinieri, lui risulta positivo all'etilometro ma appena di un soffio, 0,7 mg per litro quando il limite è di 0,5, quanto basta per impedirgli di rimettersi al volante della sua Peugeot, perciò i carabinieri gli infliggono una multa di 258 Euro, lo invitano a farsi venire a prendere dal padre, da qui la sfuriata paterna, da qui il terrore del ragazzo che teme di non poter più concorrere per un posto da vigile del fuoco, si uccide pochi minuti dopo sparandosi alla tempia con una calibro 9, otto mesi dopo si impicca pure il padre. Conclusione di questo incipit, cos'hanno in comune queste due vicende? Un epilogo tragico certo, ma non solo, in entrambi i casi il colpevole non aveva coscienza della colpa, percependo quindi la sanzione come ingiusta o almeno sproporzionata, e lo era infatti, ma era colpevole la legge, non il reo. Questo è l'incipit di un libro che si chiama La piccola eguaglianza di Einaudi del 2015, a firma del costituzionalista professor Michele Ainis, che abbiamo in collegamento. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Volevo fargli complimenti per questo libretto che mi sono gustato quando è uscito e mi ha fatto apprezzarla ancora di più. Sì, sono i temi su cui lavoro da tanti anni, poi ho anche da ultimo pubblicato un romanzo che è il terzo che scrivo. Probabilmente c'è anche qualche, a volte il diritto diventa letteratura o il contrario, oppure cattiva letteratura. Diventa cattiva letteratura quando dall'altezza, dalla sommità su cui il legislatore guarda il mondo, gli sfuggono gli amori, gli umori. Diceva Salvatore Pugliatti, che è stato un grande civilista, che la giurisprudenza è una scienza pratica, perché a differenza dell'estetica, della filosofia, ha a che fare con le sofferenze delle persone. Ci sono sempre delle persone in carne e ossa tra il testo della legge e l'interprete, sia esso un giudice, un funzionario amministrativo che deve estrarre senso da quel testo. Ci sono delle vite. Quando la legge non tiene conto di questo, diventa ingiusta. Diventa ingiusta come in quei casi che lei ricordava poco fa. Summum ius, summa ignuria, insegnavano i nostri avi latini. Noi siamo la culla del diritto perché siamo figli del diritto romano, però loro già avevano capito che un'applicazione meccanica della norma può portare a una profonda giustizia nella vita reale e pratica e concreta delle persone. Sì, da ultimo vedo una deriva nella nostra legislazione, ma che figlia della nostra cultura di questo tempo, cioè l'uso di legiferare per casi singoli, specificando tutte le categorie. Faccio un decreto di storia e allora dico i benzinai vestiti di verde, quelli vestiti di giallo e quelli vestiti di blu e poi magari mi dimentico i benzinai vestiti che indossano una tuta rossa. Così da ultimo c'è una polemica sul cui sono stato, in qualche modo anch'io responsabile, sul DDL Zan, la legge sull'omofobia che di nuovo è una legge che disciplina per categorie. Ora perché noi abbiamo perso la confidenza con le clausole generali, che erano il modo di legiferare che gli antichi, ma anche gli luministi due secoli fa, la legge non dispone che per categorie generali, c'era scritto nelle loro costituzioni, perché l'eguaglianza richiede la generalità della legge e la giustizia è a sua volta ancella dell'eguaglianza, ma la generalità a sua volta avrebbe bisogno di un pensiero capace di frequentare categorie generali. Ho l'impressione che dopo il secolo breve, il Novecento, il secolo delle grandi tragedie, ma anche delle grandi ideologie politiche generali, totali, totalizzanti spesso, sia subentrata una parcellizzazione, non c'è più un pensiero riconoscibile come una cosa con cui devi confrontarti, sia pure per respingerlo. Ciascuno di noi vive in microcosmi, separati gli uni dagli altri, non riusciamo più nemmeno a capirci bene tra di noi e di questo la legge poi diventa un riflesso, uno specchio. Sì, tra l'altro siamo un paese in cui la produzione normativa, avevo letto che dall'unità d'Italia, un paio di anni fa in Italia erano state varate e forse erano ancora in vigore, perché poi è questo che non si capisce, si fanno nuove norme, no professore? Spesso non ci si ricorda che magari da qualche parte esiste un testo che parzialmente la materia l'ha già normata, per cui si dispongono con delle classi, 150 mila leggi, non so se è il numero esatto, però se anche fossero 100 mila direi che siamo dei cittadini sottoposti alla vigilanza della norma, che talvolta è incomprensibile perché ricorre, lei adesso ha citato il DDL Zanna, su cui comunque la volevo sfrugliare, ma ancora prima, se non ricordo male, lei si era occupato di un altro acronimo entrato nel dibattito pubblico, il DPCM, il DPCM di Conte e secondo alcuni il DPCM pure De Draghi, su cui lei a un certo punto ha detto sì vabbè, non è che sia illegittimo, però sicuramente più DPCM fai e più la situazione abnorme, o ricordo male? Sì, anche perché lì c'è stato un delirio, una comma patologia, non so come definirla, per questi DPCM non soltanto si incalzavano uno dopo l'altro, ma ciascuno ospitava una del suo lata di norme, norme peraltro scritte con la tecnica parossistica del rinvio, perciò io non ti dico Michele Heinz brutto e cattivo, ma ti dico il signore di cui dal comma 2 della legge tal dei tali, come diciamo corretta dal comma 3 della legge tal dei tali, è il brutto oppure non lo so che cosa, non ci si capisce nulla e la prova è che lo stesso Parlamento, lo stesso governo non sa esattamente dove mette le mani e quindi queste norme, queste leggi hanno spessissimo una clausola finale nella quale c'è scritto sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge, ora sarebbero abrogate lo stesso perché c'è un fenomeno che si chiama abrogazione implicita che ci viene dal diritto romano per cui tu due leggi in contraddizione tra di loro non le vuoi tenere in grembo e quindi la successiva abrogate la precedente, ma se tu lo scrivi questo principio ovvio è perché non sai quali sono le leggi precedenti su cui impatta la nuova disciplina e allora fai molto più casotto di quello che vorresti evitare perché come qualcuno ha scritto è come se un signore vive in una stanza assolutamente disordinata e affondata di abiti, di indumenti allora cerca una cravatta, non la trova, ne va a comprare un'altra, magari uguale a quella che ha già e così aumenta il disordine anzitutto eliminarlo, questo ci succede, non so se le leggi in rigore probabilmente non sono 150 mila, però sono di più quelle adottate dall'Unità d'Italia via via, ma saranno forse 50 mila o 60 mila quelle vigenti, ma molto di più di quante Pico della Mirandola potesse ricordare. Esatto, tra l'altro sul DDL Zanna, su cui lei ci ha ricordato il punto di partenza dalle sue riflessioni, l'altro giorno raccontavo che in fondo le norme ci sono già anche a tutela degli omosessuali, ho detto di una sentenza di Cassazione che ha avallato il giudizio della Corte di Appello contro cui c'era stato il ricorso di un trans, Efe Ball, condannato per diffamazione nei confronti di un suo cliente, tra l'altro un leghista, con cui lei avrebbe litigato e che alla fine ha apostrofato pubblicamente come un frocio schifoso, allora il signore ha querelato, la cosa è arrivata poi in Cassazione, la Cassazione ha detto certo che Efe Ball, il trans deve essere condannato, perché l'espressione indica un disprezzo nei confronti del destinatario del frocio schifoso, dal che io ho desunto, lo vedete, in fondo se uno vuole tutelare i gay, i trans, non è che le norme non ci siano, perché quindi pensare ad una norma ad hoc, solo che in questo paese se fai un ragionamento di sistema, passi per omofobo, cioè non sei d'accordo con il DDL ZAN? Io sono omofobo, no, pensavo semplicemente che si potesse razionalizzare, ho sbaglio professore? No, no, io poi personalmente ho anche qui tra le mie medaglie una premia arcobaleno che mi è detta per un articolo che avevo scritto sulla stampa, mi pare un'associazione gay, quindi non ho affatto dei sentimenti omofobi, osservo che una cultura liberale appunto si nutre di categorie generali, perché succede questo? Perché tu hai bisogno di dire non che è vietato insultare il prossimo, ma che è vietato insultare le donne, gli ebrei, i neri, i gialli, gli omosessuali, i trans, gli elettino, tutte le categorie, forse anche perché c'è una diffidenza nei confronti della magistratura da parte della politica e allora si cerca con queste leggi puntute come spilli a legare le mani alla politica e evitare che abbia dei margini di discrezionalità interpretativa con un effetto paradossale, perché in realtà il potere del giudice cresce quando tu riempi i suoi libri, i suoi codici di una costellazione infinita di norme, perché allora la discrezionalità diventa quella di scegliere, come faresti in una salunaria, qual è il prosciutto che ti serve in quel caso specifico, se ti sta antipatico o imputato o se vuoi aprire un procedimento, però all'origine c'è anche questo, ci sono dei cattivi rapporti tra potere legislativo e potere giudiziario. Lei ricordava che oltre che essere un costituzionalista e un saggista e anche un romanziere, alla sua terza prova, con disordini, corretto? Sì, sì, sì. Storia che inizia con un professore associato di giurisprudenza, Oscar, che una mattina si guarda allo specchio e scopre di essere diventato un altro? Sì. Oggi si dice non spoileriamo troppo, cioè non riveliamo troppo, però che romanzo è, professore? Una delle cose, quando scrivi un libro sono i lettori che lo valutano e lo incasellano, in questo caso è stato da IBS, da questi algoritmi che sanno le loro classificazioni, classificato come libro di santa scienza, in realtà non ci sono né dischi volanti né omini verdi, è un libro che si scrive in un genere, direi nobile, che è la letteratura fantastica, non realistica, ma fantastica. Se può consolarla è vero, ho letto anch'io che era di genere di fantascienza, poi in realtà mi sono documentato, mi sono procurato e in realtà siamo all'apologo, qualcuno ha detto l'apologo di Voltaire, il candido, l'ingenuo, calati nel mondo contemporaneo. Sì, sì, la storia attraverso una metafora, che è quella di un cambiamento che non riguarda all'inizio, soltanto il protagonista, poi anche altri si diffonde, è una metafora del nostro tempo, poi mi è capitato, mi ha fatto molto piacere presentare questo libro al Maxi, c'era Dasha Mareini, naturalmente è stata evocata la più celebre metamorfosi, quella di Casca, lo diceva Dasha, però qui non c'è la mostruosità, perché è un uomo che diventa un altro uomo, oppure donne che diventano altre donne. Poi se qualcuno avrà voglia di leggerlo non scopriamo la trama, ma sì, è una metafora, forse la letteratura è sempre metafora della vita. Allora, io ringrazio, perché gliel'avevo preannunciato anche al professor Ainis, oggi la versione del venerdì è breve, però mi faceva piacere presentarvelo, mi faceva piacere concludere questo ciclo di 60 incontri con personaggi completamente diversi, politici, scrittori, cantanti, sportivi, che interessavano me, ma a giudicare dal riscontro che abbiamo avuto hanno interessato anche i nostri, dovremmo dire, visualizzatori, perché in rete si visualizza, volevo chiudere col professore perché è una persona che quando parla lo leggo e lo ascolto, quando scrive e lo leggo, quando parla e lo ascolto volentieri, non segue la corrente mainstream, non necessariamente, alla vigilia dell'estate ha partecipato a un convegno pubblico dei cosiddetti negazionisti, se lo ricorda la polemica, ma come anche Ainis è andato dai negazionisti, vabbè lì polemiche sulle mascherine o sbaglio? Sì, sì, io in quell'intervento che feci dissi che se c'è un partito a Liz, dei negazionisti io non mi ci scrivo, dopodiché vado dove mi pare, non mi faccio mettere sordine di vieti, il mio intervento era su una cosa che abbiamo anche accennato poco fa, e cioè l'invasività e l'uso strumentale dell'emergenza rispetto ad alcune libertà costituzionali protette. Allora, fatevi un regalo, se quest'estate vi dovete portare uno o magari più libri sotto l'ombrellone, sfidatevi del mio giudizio, prendete Disordini, del professore, che è non un romanzo di fantascienza come te lo avrete scritto googolando, ma ripeto, un apologo sul mondo contemporaneo, uomini che diventano altri uomini, donne che diventano altre donne. Grazie professore, è stato un piacere e ovviamente grazie a tutti coloro che ci hanno seguito questa mattina, in queste 60 conversazioni, il mio impegno con le fonti si chiude qui, alle fonti e a tutti voi auguro ovviamente il meglio e poi come dico sempre, tra persone per bene ci si ritrova sempre. Buona giornata e buone vacanze. Grazie a tutti.